L'alta e densa nube di fumo chiaro si è elevata già dal mattino, generando preoccupazione e timore tra chi poteva vederla anche da grande distanza. Da quando, alle 8.30, il centralino dei vigili del fuoco di Mestre è stato subissato dalle centinaia di chiamate di gente, che con le segnalazioni chiedeva anche rassicurazioni per il vasto incendio che si è propagato lungo la barena di San Giuliano per un'area di oltre 1.500 metri quadrati. A prendere fuoco il canneto e le sterpaglie in una posizione in cui eccesso è risultato difficile pure per gli stessi pompieri che con l'autobotte sono dovuti intervenire anche con l'elicottero. Le fiamme da Passo Campalto si sono propagate per diverse ore fino a San Giuliano lungo tutto l'asse della ciclabile che collega i citati due accessi. I vigili del fuoco hanno avuto la meglio sulle fiamme dopo oltre tre ore di intervento. Ancora da stabilire le cause dell'incendio, dovuto forse a un mozzicone di sigaretta gettato incautamente da un passante o da un ciclista, o da una bottiglietta di acqua che con il sole e le alte temperature di queste ore può generare l'innesco di un ruogo e la sua propagazione con il classico effetto specchio. I raggi solari, infatti, passando attraverso l'acqua, la surriscaldano al punto che può raggiungere temperature fino a 100 gradi Celsius. La spiegazione dei vigili del fuoco, che a scopo preventivo raccomandano, tra l'altro, di non lasciare mai le bottigliette d'acqua in auto, viste le alte temperature di questi giorni. La singolarità è che nello stesso periodo, nel 2012, ci fu lo stesso tipo di incendio e nello stesso punto, su una superficie però molto più vasta e che interessò quasi 20.000 metri quadrati di area.